Ho scelto la tipologia D perché mi sembrava quello più consono alle mie idee, al mio pensiero politico e cose del genere. Senti, a quest'anno me ti sono sembrati i titoli? Ma titoli abbastanza facili, non complicati. Comunque si poteva parlare di molte cose e secondo me avevano tutti un filo logico. Cioè? Cioè se tutti parlavano di crisi o di lavoro o comunque tutti o si riguardano la crisi. Quindi molto attuali? Sì, molto attuali.